Siamo allo sport, parliamo di calcio, dando subito notizia di un appuntamento che ci riguarda da vicino. Venerdì prossimo 9 febbraio, in diretta in chiaro sul Reteotto, l'incontro in calcio Gubbio Pescara, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C, Girone B. Dallo stadio comunale Pietro Barbetti di Gubbio, dunque Gubbio Pescara in diretta sul Reteotto, a partire dalle 19.45, ma per tutti i dettagli abbiamo in studio il nostro Massimo Profeta. Buonasera Fabio, buonasera a tutti gli amici di Visione dell'Ascolto. Stiamo vedendo proprio questo promo che è significativo, perché questa diretta, ve la proporremo naturalmente a partire dalle 19.45 di venerdì prossimo, Gubbio Pescara comincerà alle 20.45, dunque ci sarà un ricco pre-gara, la telecronaca di Enrico Giancarli e poi il post-gara con le interviste del 91esimo, naturalmente Gubbio Pescara in diretta e in chiaro su Reteotto. Per quanto riguarda invece le notizie dell'allenamento di oggi, intanto Zeman è tornato a dirigere la seduta perché aveva accusato sintomi influenzali importanti nei giorni scorsi, anche se sabato non aveva la febbre e quindi gli era stato sconsigliato di andare in panchina. Oggi si è presentato regolarmente a Silvi per dirigere la seduta di allenamento. È cominciata così la preparazione in vista di Gubbio, che sarà uno scontro diretto, Fabio, molto importante, perché si affronteranno la quarta e la quinta in graduatoria. Insomma, sicuramente è una partita molto importante, da non fallire soltanto un punto separano le due squadre. Il Pescara sta vivendo un ottimo momento, tre vittorie consecutive. Stessa cosa dicasi però per il Gubbio, allenato da un tecnico molto esperto, che risponde al nome di Piero Braglia, uno dei più vincenti di questa categoria, ben quattro promozioni in Serie B. Il Gubbio che ha infilato sette risultati utili consecutivi, ma non è tanto questo numero. Il fatto che abbia vinto sei delle ultime sette, quindi sei vittorie ed un pareggio con quattro vittorie in trasferta consecutive. Quindi un banco di prova sicuramente molto, ma molto importante per i Biancazzurri. Per quanto riguarda le condizioni singoli, Cangiano è ancora allettato con la febbre, quindi è in dubbio. Floriani oggi si è allenato, aveva subito un duro colpo all'anca nella partita di sabato con la Pineto, che lo aveva costretto ad abbandonare il proscenio al suo posto Pierno. Però insomma, nulla di rilevante, tant'è che oggi è tornato ad allenarsi con il gruppo. Squizzato riprenderà mercoledì. Saranno a disposizione i due giocatori che erano stati assenti. Insomma, erano stati indisponibili nella partita di sabato per squalifica, vale a dire Franchini e il neo Biancazzurro Sasanelli, attaccante classe 2004, che è stato prelevato in questa sessione di mercato, teste consegnate agli archivi, dall'Andrea. Per Accornero e Vergani bisognerà aspettare ancora un po'. Probabilmente torneranno a disposizione a fine febbraio. Molto bene Massimo. Parliamo ancora di calcio. Notte d'Olenti, sempre in Serie C, in casa del Pinedo, la sconfitta nel derby di sabato sera col Pescara, ma soprattutto quattro punti conquistati nelle ultime otto gare sono costate la panchina del tecnico appunto Daniele Amaulo. Ma si parla già del suo successore? Sì, si parla del suo successore perché insomma l'accordo c'è con Roberto Beni. Roberto Beni non ancora 57 anni, classe 1967, un passato da calciatore come difensore. Come allenatore è stato vice di Ballardini e Colantuono, soprattutto in Serie A, in Serie B e anche in Serie C, ma soprattutto in Serie A con l'Udinese e con l'Atalanta, proprio come stretto collaboratore di Colantuono, anche con Ballardini. Tra l'altro è ancora legato alla Cremonese perché Ballardini è stato esonerato, al suo posto è arrivato stroppo all'inizio praticamente della stagione, quindi deve risolvere il rapporto con la Cremonese, ma non ci dovrebbero essere problemi. Insomma domani probabilmente ci sarà domani mattina l'annuncio. Roberto Beni non ha avuto grandi esperienze da allenatore di prima squadra, diciamo che l'unica esperienza in Serie C l'ha fatta proprio nel Rieti, soltanto sette giornate nel 2019-2020, però insomma ha una grande esperienza perché è stato, ripeto, vice in Serie A di due tecnici molto stimati e sicuramente competenti come Ballardini e Stefano Colantuono in Sodalizia, anche prestigiosi. Massimo, chiudiamo questo appuntamento con la pagina sportiva, rinnovando ancora l'appuntamento per venerdì prossimo 9 febbraio? Sì, venerdì 9 febbraio, ore 20.45, diretta in chiaro su Rete 8, a partire dalle 19.45 con un ricco pregara, si affronteranno, prima mi sono sbagliato perché io purtroppo per i numeri faccio un po' fatica, però si affrontano la quinta e la sesta e non la quarta e la quinta perché Pescara era quarto dopo aver battuto il Pineto sabato, ma poi è stato scavalcato dalla Carrarese che a sua volta ieri ha prevalso sull'Olbia, però insomma è uno sconto diretto molto ma molto importante.